Un unboxing di un lettore DVD e masterizzatore per Mac e PC Non so se va bene anche per l'Unix Sinceramente non lo so perché non c'è scritto Ed è la Samsung comunque marca, presuppongo, affidabile Comunque vi faccio vedere il retro nel caso che foste interessati all'acquisto Non mi metto a leggere perché trovo che sia anche una perdita di tempo Potete semplicemente mettere start e vedere insomma Allora apriamo la confezione e subito troviamo Io come sempre ho sempre un dubbio sull'utilità di questo oggetto Perché ormai i DVD sono... Cioè ad esempio l'Apple o comunque anche gli altri produttori A parte per lo spazio non mettono più i lettori DVD sui PC Allora questo qui è un cavo 2.0 No 1.0 perché il 2.0 è più sottile Questo qui invece è 2.0 Non so se questo possa influire anche per i DVD Per quanto riguarda la velocità di download o comunque di upload Eeeh ok Allora apriamo Allora vi dico subito che l'ho già aperto perché mi serviva ma ho avuto soltanto adesso il tempo Di fare l'unboxing insomma Allora estraiamo Estruiamo il... Vabbè le istruzioni e questo DVD che non ho ancora capito a cosa serva ma vabbè Eeeh ok Allora lo estraiamo Eccolo qui Molto bello devo dire E vabbè in plastica ovviamente super slim quindi molto leggero e molto sottile Eeeh vabbè in plastica E qui troviamo il pulsante per estrarre il DVD E anche l'entrata per il 1.0 Ok adesso andremo a collegare al Macbook Air Eeeh Allora Vi dico subito che sto utilizzando tutto il computer perché Come vi ho detto sto registrando l'audio Eeeh dal Sul Mac E poi lo comparo Lo unirò al video Quindi Eeeh Andiamo a fare con Questo bel film Eeeh la prova Non vi farò vedere assolutamente niente però E' preso il primo film che mi è capitato insomma Adesso Apriamo Lo faccio piuttosto per farvi sentire il rumore che fa Perché non è del tutto Eeeh poco rumoroso Perché il rumore lo fa Adesso io ve lo avvicino al microfono Non è che si senta molto Adesso deve ancora apparire sul desktop Beh comunque è molto semplice Basterà Eeeh semplicemente inserire il USB E farà tutto Lui praticamente Ci vuole un po' Eeeh prima che Eeeh legga il DVD Eeeh poi Vi appaia sullo schermo Adesso sta facendo rumori E io ve lo avvicino Sentite Eeeh davvero davvero molto rumoroso Qui c'è anche un LED Beh questo qui è il rumore che farà Non è che è partito Adesso lo metto Adesso vi faccio sentire che è partito Sentite Vabbè comunque All'inizio è rumoroso però Per il resto è abbastanza silenzioso Quando lo stiamo utilizzando Adesso è partito il film Sentite Non so neanche se lo sentite Eeeh non è rumoroso Quindi Questo è tutto per L'unboxing E la Semi preview Comunque le prime impressioni Su questo oggetto Mettete la like al video se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Per il ragionamento su unboxing In azioni e molto altro